il suo sguardo passa dal professor zai di a me bene allora sono felice di aver potuto essere d'aiuto signorina erkel le auguro un buon weekend questo tipo non mi spira fiducia sembravate intimi in ogni caso sembrerebbe proprio che la tua formazione al bar sia terminata mi sento un presa con clementina già lo so non riesco a capire perché si comporti così con te io credo soprattutto che clementina abbia paura che tu passi meno tempo con lei e più con me io non ho smesso di camminare e allo sguardo fisso nel vuoto no 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 non credo che no da no no ti prego sì invece sì le piaci bene vado a riposarmi adesso capisco a che punto le persone abbiano bisogno di ferie dopo delle giornate di lavoro estenuanti come quella che ho passato buona notte ho spinto piano la porta per non svegliare glielin nel caso in cui stesse dormendo salve salve sta mettendo in ordine la stanza cosa che io non faccio mai ho spolverato dappertutto quando riesco a dormire faccio le pulizie mi aiuta spero non sia un problema per te pulici tutta la stanza voglia vieni anche in camera mia perché così gentile improvvisamente la cosa mi rende ancora più diffidente grazie è davvero gentile da parte tua o per la prima volta dall'inizio del gioco stiamo alzando l'ovometro con gli alieni mancia di che dovrei farlo più spesso mi rilassa ok meno lavoro per me non so troppo come reagire gli alieni ha spento la musica del suo telefonino all'improvviso mi sono reso conto che stava ascoltando i crowstorm sono stanca marta vado a dormire sono già stata in bagno puoi andarci ok buonanotte gli alieni ha spento la luce della stanza e acceso quella sul mio comodino si è messa a letto con gli auricolari nelle orecchie wow ma che cosa è successo sono andata a fare una doccia calda in bagno ne ho davvero bisogno dopo una giornata come questa ho pensato a cosa avrebbe detto chani se avesse visto gli alieni comportarsi in questo modo stasera di sicuro qualcosa del tipo penso che sei passata in una dimensione parallela nella quale gli alieni apprezza l'unico problema è che ha iniziato l'apocalisse e il corridoio è pieno di zombie mi sono messa a ridere pensandoci sotto l'acqua calda che mi rilassava sono stata fuori a lungo in fin dei conti stasera mi rendo conto che sono congelata ma se non andiamo in spiaggia nel prossimo episodio mentre l'acqua mi scorreva sul viso ripensato alla conversazione col professor zaiti poi ripensato a cassi le nat ci è mancato poco che mettessero tutto sotto sopra al bar dopo essermi asciugata mi sono messa in pigiama mi sono addormentata nel momento stesso in cui ho posato la testa sul guanciale quando aperto gli occhi la domenica erano le due del pomeriggio a bello caspita e mi sembra di essere ancora più stanca che mi si fossi alzata alle 6 del mattino gli alieni non c'è che novità abbiamo incontrata la mattina poi le due del pomeriggio assi infatti ho preso una scatola di biscotti dimenticata sotto al letto ma fai schifo dai un ratto io ho fatto colazione così guardando il telefonino bene al caldo sotto le coperte una giornata letto mi sembra un ottimo programma ho persino ripassato un po gli appunti senza uscire da sotto le coperte mi sono addormentata le due del mattino ho praticamente passato tutta la giornata a letto tu quindi vuoi dire che sei svegliata alle due e ha passato 12 ore sotto le coperte per poter addormentarsi non dico che non è fattibile perché è fattibilissimo non penso averlo già fatto anche però non è uno stile di vita sano la sveglia del lunedì mattina si è messa a squillare ho borbottato ancora mezza addormentata e mi sono svegliata con la guancia pagnata di saliva più sexy si può ho detto voce alta senza accorgerne ma un'occhiata rapida intorno mi ha confermato che ero sola in camera mi sono alzata e cominciato a prepararmi per la giornata il lato dove dorme yelin brilla la camera è così pulita e ordinata che sembra nuova ho guardato il mio letto e la mia scrivania non c'è più tracce del passaggio di yelin dopo la mia domenica da pigrona la scotola di biscotti vuota sulla setia della scrivania e una rivista spiegazzata sul letto non lasciavano alcun dubbio sulla mia attività del giorno prima lo sappiamo eravamo con te eravamo te santo dio andiamo avanti allora il discorso è che questo episodio non costerà tanti pa ma stiamo passando la metà di questi pa a dire a ripetere le stesse cose infatti mi chiedo cosa succede in questo episodio giustamente niente cioè metterò in ordine stasera se domani sono andata a fare la doccia mi sono vestita per andare la prima lezione della giornata arte antica e medievale con il professor lebard il massimo è davvero la prima volta che ho l'impressione di essere all'università finora l'atmosfera mi faceva pensare piuttosto alle vacanze ma oggi gli studenti che vedo sono tutti di fretta e carichi di documenti di ogni tipo a questa vista mi sono completamente svegliata ho sentito un nodo allo stomaco ricordandomi che non aveva ancora scelto l'argomento della tesi magnifico avevo proprio bisogno di questo per dimmi che hai messo in ordine la camera dopo aver lasciato quella specie di tana che è il tuo letto quasi andavo a sbatterle addosso mi ha superata e prima ancora di rendermi conto di cosa stesse succedendo ha cominciato a gridarmi in faccia buongiorno evitiamo argomento già come no buongiorno non hai risposto alla mia domanda metterò in ordine nella stanza dopo adesso ho lezione non mi stupisce proprio che tu stia perdendo l'anno quando vedo a che punto sei disordinata ma qual è il suo problema oh non ho tempo jeline come ti ho detto vado a lezione e eppure io il tempo ce l'ho avuto per spolverare in quel casino che chiami la tua scrivania e non ci ho messo tutto il pomeriggio non ti avevo mica chiesto di no naturalmente ma se non lo faccio io chi lo fa è le formiche che avranno invaso la nostra stanza vista la quantità di scatole di biscotti che sei capace di mangiare che lasci in giro fa poco ce le ritroveremo dappertutto su questa ragione jeline stava letteralmente gridando nel cortile del campus gli studenti che passavano di lì si giravano a guardarci ridacchiando senza farlo apposta ho cominciato a farmi piccola piccola senza lasciarmi il tempo di rispondere se ne andata verso il dipartimento d'arte facendosi strada agli studenti che cercavano di entrare nell'edificio nonostante la folla ma per chi si wow c'è gente che davvero troppo in forma per un lunedì mattina oh salve ciani immagino che tu abbia sentito tutto sì come tutto il resto dell'università a dire la verità anche se fossi stata in camera con le cuffie sulle orecchie in quel momento vi avrei comunque sentite perfetto un'altra bella settimana che inizia dai vieni non c'è niente di meglio di un corso di arte antica medievale per schiarirsi le idee o dormire no ma non riesco davvero a capirla l'altro ieri era simpatica ed oggi è una vera furia sul serio qual è il suo problema tu ero così esterefatta dal suo comportamento che lì per lì non ho reagito ma adesso stringo i pugni comincio ad arrabbiarmi sul serio però non è che completamente torto e lì certo doveva urlarti in faccia davanti a tutti però insomma mi sono sentita come una bambina che si è fatta sgridare perché ha lasciato in disordine i suoi giochi e per di più di fronte a tutta una truppa di studenti simpatica con te davvero so che hai lavorato sabato ma sei al corrente che non sei autorizzata a bere sul tuo luogo di lavoro non lo so dopo tutto me lo sarò sognato e lo sai qual è la cosa inquietante che potrebbe essere vero sì ma visto i nostri sogni oppure sei passato attraverso un portone multidimensionale e ti sei ritrovato in un luogo spazio temporale nel quale ieri ti apprezza la cosa divertente è che quando giochi gli eventi con l'anello al liceo passi davvero attraverso un tunnel spazio temporale cosa avrei dovuto scommettere su questa risposta ero sicuro che avresti detto qualcosa del genere dai vieni rischiamo di arrivare in ritardo ti schiererò le idee in cammino su segui ciani che per amor di dio la strada giusta quindi ho trovato una casa abbandonata a pochi chilometri di stanza e sono sicura che potremmo visitarla e fare qualche foto ero concentrata sulla calca degli studenti che impediva di entrare nell'anfiteatro cosa cosa è questa storia della casa abbandonata ti sto parlando di urbex mi sono informata e dell'urbex ma che cappero sta parlando esatto dell'esplorazione urbana visitare delle case abbandonate o altri rifici di questo tipo no ma lo so cos'è non è vero va di modo in questo momento giusto anche tu nel questo periodo sei andata a visitare case abbandonate a me piacciono i cimiteri interessate questa via in nuova esiste già da un pezzo ed è esplosa negli anni ottanta ma avevo voglia di provare qualcosa di nuovo così ho deciso di andarci stasera dopo le lezioni e stasera ma non puoi andarci così potrebbe essere pericoloso hai bisogno di essere equipaggiata e hai bisogno di un paletto di legno una pistola palotta d'argento e dell'acqua santa poi puoi fare quel che vuoi anche perché lì sappiamo che ci sono dei vampiri cianni ha rivistato nella sua borsa e ha tirato fuori una torcia che ha stretto tra i denti una batteria portabile per il cellulare una fotocamera degli attrezzi per forzare delle porte una lampada da testa e delle corde d'alpinismo è apprezzata ce le porta sempre mancava un'arma e poi dopo aveva dopo l'omicidio perfetto manca una pala e un'arma oppure la pala che usi come arma ho tutto quello che serve è da tanto che ti prepari per no ho guardato un video su internet allora sabato ho comprato tutti gli attrezzi ho comprato anche questo ha tirato fuori dalla borsa un libro grosso come due dizionari sulla copertina c'era scritto storia pratica pericoli preparazione urbex caspita non si può dire che tu scherzi quando hai un'idea in testa per fortuna che lei ha delle idee le porte avanti ma è solo che mi informo sull'argomento che siamo riusciti ad entrare nell'anfiteatro nel momento in cui il professor lebard stava per chiudere la porta ci siamo sedute continuando a parlare sottovoce hai davvero l'intenzione di fare dell'urbex ciani sì santa maria perché dovrebbe dirlo così a caso tu dici le cose a caso lei no ma donna mia santa diciamo per il momento ho deciso di visitare due o tre case questa settimana poi vedrò se mi piace ma come hai fatto a trovare tante case abbandonate è la domanda che mi stavo ponendo ho le mie fonti e non è qualcosa di illegale in realtà sì ma farò in modo di non farmi beccare certo che di colpo è molto più rassicurante buongiorno benvenuti al corso di arte antiche medievale penso che ormai avrete già scelto l'argomento della stesi quindi riparleremo di qualche nozione di base così le avrete bene in mente l'aumento della stesura ma è appena iniziato l'anno che cazzo sta parlando sto vecchiazzo di merda ma io non ho scelto proprio niente non ho nessuna idea dell'argomento che tratterò ho lanciato un'occhiata intorno nessuno sembrava agitato a parte me ciani pende già dalle labbra del professore ho tentato di calmare l'ansia che cominciava ad invadermi stasera mi metto a lavorare e risolvo il problema dell'argomento della tesi ho utilizzato tutte le mie capacità di concentrazione per quattro ore fino a quando il professore barda ha annunciato la fine della lezione quattro ore una tortura cinese no ammetto che quattro ore costo qua fa venire il latte di nocchia pure ma è stato super interessante l'arte celtica è così mistica farò la tesi senza dubbio su questo argomento anche tu non hai ancora deciso su cosa fai la tesi a dir la verità sì ho già scritto una tesi molto solida sulla struttura runica ma esito ancora hai già scritto una tesi ma sì certo non dormo molto la notte quindi ne ho approfittato quello che mi dice mi fa venire un attacco di panico sono solo io che non ho ancora pensato all'argomento della tesi siamo uscite dall'anfiteatro ci siamo diretti in cortile sono solo 120 pagine quando conosci il tuo argomento è facile da fare ma no c'è anni mi sta vicino l'ansia pure me potrei magari inserire da qualche parte l'urbex come una forma di performance contemporanea mi manda in panico con la tua tesi e perché non ho scritto una riga e non ho ancora scelto l'argomento come faccio come la maggior parte degli studenti è il momento giusto per decidere non vedo l'ora per stasera con un po di fortuna potrei trovare un tesoro inestimabile o un fantasma in una casa infestata o un cadavere seppellito in un muro o essere inseguita da uno psicopatico con un asce in mano con te non ci sono via di mezzo si passa dalla casetta abbandonata a shining perché lo scenario non ti piace sì mi piace ma sarei io il tipo con l'accetta è un film che mi terrorizza davvero è percorso da un brevi dove scuote le spalle no c'è non puoi farmi questo non puoi aver paura di essere solida una roccia non si ha le cacche di gelatina traballanti nella notte porterà comunque il cellulare e uno spray il peperoncino non si sa mai finalmente un po di paura magari ti fa passare la voglia di buttarti a capofitto in qualsiasi impresa non ho voglia di ritrovarmi ridotta a carne trita nella cronca nera dei giornali domattina ecco per favore non lo sopporterei se dovesse succederti qualcosa va con lei perché tutto questo dialogo porterebbe al fatto che tu dovresti andare con lei salve ciani ciao erchel tutto bene o rosa non ti avevo vista stavamo parlando di senti possiamo vederci un attimo certo tutto a posto sì sì ma volevo parlarti va bene ciani mi dispiace ci ritroviamo dopo lezione non c'è problema a dopo ho guardato ciani andarsene da sola in direzione della mensa mi ha un po attristata ma ho capito subito che rosa aveva voglia di parlare con me a quattro occhi e sicuramente ciani avrà capito perché ha una sensibilità migliore della nostra adesso che ci penso è vero che ciani mi parla spesso della sua compagna in distanza ma non l'ho mai vista con lei ho come l'impressione di essere l'unica persona che lei frequenti qui al campus mi sono girata verso rosa va tutto bene sei pallida non parliamone qui andiamo piuttosto in un luogo dove nessuno può ascoltarci nella boutique di late c'è un deposito saremo tranquille lì ci sarà qualcosa da mangiare solo perché dopo devo tornare a lezione late ha sempre qualcosa da mangiare scusa ma devo pur mangiare prima di tornare a lezione mi fai sorridere promesso ci sarà da mangiare scusa no è carino dai ma cosa è carino siano delle pugni dei topi che mangiano biscotti a letto tutto il giorno abbiamo attraversato il cancello dell'università camminando di buon passo grazie a tutti grazie a tutti